Salute! Questo ti basa da sui tu, dai il tuo consenso? No! Non ti ho fatto! Dai! Il mio consenso no! Aspettative? Della vita! Hai 33 anni! Della vita! Della vita! Hai già avuto tutto? Della vita! 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 Guarda che uova! Della vita! Della vita! Mi bastego bene! Per tutti i patrati! Non! No! Facciamo una carrellata sui parti! Volete dire due parole? Mi raccomando... Anche di scolta! Dio lì! Con la pura! E' un'intensua! Voglio scontare i tuoi! Aspetta che qua c'è molto la regista, la mano della regista perché è un movimento improvviso, qua c'è un'aria che è bella. Stiamo facendo un piccolo filmato, noi ci siamo, alcuni c'era, noi ce l'avamo, se avete qualcosa a dire contro il cielo dietro adesso, non abbiamo fatto a tempo, ma quanto tempo abbiamo? Pochi secondi, allora niente, alcuni, quei 20 euro che ti doveva? Che ormai sono diventati meno 150, questi non passano. Ti vedo perplesso, tira fuori quello che hai detto, liberati, puoi farlo, no, tranquillo, di quello che pensi di cena, dillo, basta guardarlo, basta guardarlo, lascia pensare, scusate. Anche tu? Niente, niente, aspetta che, la regia è tutta qua, scusa, vai, dai, a me piace poi chiudere con una battuta qualcosa, dai, niente, si trova stasera? Ah, lui lo spera a te, però sai, non è che mi... No, 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 no. No, no.